Noi portiamo le ferite ma soprattutto portiamo la memoria, raccontiamo chi ha perso la vita, otto uccisi dalla mafia, colleghi siciliani, una collega siciliana, la Cthulhu, uccisa, inviata di guerra in Afghanistan. Portiamo sì le ferite ma portiamo anche la storia di questi colleghi che dimostrano come fare il giornalista, semplicemente fare il giornalista, si può morire. Si può morire perché spesso si è soli, perché spesso si portano avanti le idee e si portano avanti le notizie, le notizie che noi dobbiamo dare, magari facendo una doppia conferma, cercando di trovare le fonti e cercando di fare un giornalismo con la schiena dritta. Questo vuole fare l'ordine dei giornalisti che è onorato di essere all'interno del Palazzo Europeo per raccontare cos'è il giornalismo, cos'è il giornalismo siciliano di inchiesta e che prezzo ha pagato. Siamo contenti, lo porteremo anche in giro per le scuole in Italia e in Europa perché la memoria non va spenta, anzi va alimentata.